Allora, diciamo che è qualche anno che studio marxismo, come si capisce dai miei capelli bianchi, e in realtà più lo studio e più mi convinco che Engels aveva torto. Dopo questo colpo, a sorpresa, in realtà non mi accoderò al luogo comune che poi affronteremo, sui presunti errori di Engels, eccetera, in realtà penso che avesse torto quando si definiva un secondo violino, in riferimento a Marx, che sarebbe stato secondo lui il primo violino. Come vedremo, seppur brevemente, erano in realtà un'orchestra, diciamo, Marx ed Engels. In generale si ricorda Engels soltanto o soprattutto per aver sostenuto economicamente Marx, perché Marx potesse, come diceva lui stesso, lavorare per l'umanità, cioè non per un salario. Ed effettivamente è vero che Engels, che era di famiglia ricca, di industriali della RUR, aiutò Marx per molti anni finanziariamente, aiutò in realtà anche tutta la famiglia di Marx, aiutò anche molti militanti, dirigenti dell'internazionale. Marx fece una vita miserevole, come sapete, in fuga perenne dai creditori, insomma, a volte si doveva nascondere in casa perché alla porta bussavano i fornitori, il macellaio, il fornaio, che non venivano pagati da tempo. Tutto questo è vero, diciamo, però non è la cosa più importante che ha fatto Engels nella sua vita politica. In realtà Engels ha fatto molto di più. Per certi versi Engels fu un po' il maestro di Marx, fu a Engels a indirizzare Marx allo studio dell'economia. Marx inizialmente era appassionato di filosofia, ma aveva iniziato lo studio della filosofia, poi il padre voleva che facesse l'avvocato, come molti genitori evidentemente pensava fosse un mestiere più redditizio che non quello del filosofo, e l'aveva costretto a studiare giurisprudenza. Poi in realtà, con la morte del padre, Marx torna alla filosofia, infatti farà una laurea sugli atomisti greci, un testo importante, secondo alcuni, in cui già si possono ravedere alcuni primi esempi della materialismo, della concezione materialistica della storia. Però, come dicevo, Engels arrivò per primo allo studio dell'economia, scrisse nel 1942-43 un abbozzo di critica dell'economia politica, che poi fu pubblicato su quel numero unico degli annali franco-tedeschi che Marx dirigeva, ne uscì un unico numero nel 1944. Secondo Marx, questo testo fu per lui fondamentale, la lettura di questo testo lo indusse a iniziare i suoi studi di economia. Fu Engels a far conoscere a Marx non solo l'economia, ma la classe operaia reale. Non so se qualcuno di voi ha visto quel film che è uscito due o tre anni fa, mi sembra, il giovane Marx, che è un film che ha alcuni limiti, insomma alcuni anacronismi, cerca di riassumere. Evidentemente ho la vita di Marx e Engels in un'ora e mezzo, cosa che è difficile, anche se parla solo dei loro anni giovanili, arriva più o meno intorno al manifesto a 48-49. Però al di là di questi limiti ha un pregio questo film, che fa vedere come Engels abbia sentito l'esigenza, fin da giovanissimo, di andare a conoscere la classe operaia e andare a conoscere nei suoi quartieri, nei quartieri dove la classe operaia abitava, dove viveva. Frutto anche di questa conoscenza ha scritto quel libro bellissimo, che io consiglio sempre a tutti i compagni che non lo conoscono di leggere, che è La situazione della classe operaia in Inghilterra. È un libro che è uscito nel 1945, 1845. Quindi fu Engels a avvicinare Marx non solo all'economia, ma alla classe operaia, diciamo così, a portarlo fuori dal mondo dei libri e avvicinarlo a quella classe che poi entrambi insieme scoprirono avrebbe potuto, potrebbe, potrà cambiare le sorti dell'umanità, le sorti del mondo. Fu Engels a scrivere la gran parte dei testi che noi conosciamo come testi di Marx. Molti testi che sono firmati da Marx sono stati scritti in realtà da Engels. Ad esempio, perlomeno una metà si ritiene degli articoli che Marx pubblicò su questo importante giornale americano, la New York Tribune, negli anni 50, sono stati scritti circa 500 articoli, almeno una metà li ha scritti Engels. Marx scriveva questi articoli per fare qualche soldo, ma ci sono molte cose interessanti. Siccome Marx non aveva tempo, nella divisione del lavoro, diciamo, dalla ditta Marx Engels, Engels spesso scriveva gli articoli e rifirmava poi Marx che ne prendeva la retribuzione. E grazie ad Engels si abbiamo il secondo e il terzo libro del Capitale. Voi sapete, se non sapete ve lo dico, che in vita di Marx esce solo il primo libro del Capitale. Nel 1867, il secondo e il terzo libro del Capitale, Marx non li ha scritti. Anche se nei carteggi con Engels gli spiegava che era a buon punto. Ogni volta diceva, sono a buon punto, vedrai il lavoro, uscirà a breve, eccetera. Poi, quando Marx è morto nel 1883, Engels è andato nel suo studio e ha messo mano nelle carte di Marx e ha scoperto che le cose non stavano effettivamente così. Per la maniacale modalità di lavoro di Marx che si rifiutava di pubblicare una cosa se non l'aveva rivista, riscritta decine di volte, se non l'aveva studiato e letto tutto quello che era stato scritto su quel tema. Pensate, parentesi, alla modalità diversa che aveva Marx di lavorare rispetto a tanti che scrivono su Marx, che scrivono dalle ciocchezze senza neanche aver letto i libri di Marx. Comunque, chiusa parentesi, siccome aveva questa modalità di lavoro maniacale insomma alla fine non riuscì a scriverli né il secondo né il terzo libro. In realtà il piano iniziale era addirittura di sei libri. Beh, il secondo e il terzo di fatto li ha in parte, in gran parte, scritti Engels usando i brogliacci degli appunti di Marx, completando degli interi capitoli interpretando o decifrando altre parti, completando delle ricerche che Marx non aveva terminato. E ci lavora parecchio. Il secondo esce nell'85, secondo libro del Capitale, 1885. Il terzo nel 1894, un anno prima della morte di Engels, che infatti quando completa questo lavoro dice il grosso di quello che dovevo fare nella mia vita l'ho fatto, per l'importanza che aveva ovviamente, che ha tuttora il Capitale. E poi ce n'è un quarto libro, sapete, che è stato pubblicato soltanto nel 900, intorno fra il 1905, 6, 10, da Kauski, prima che diventasse, diciamo, il rinnegato Kauski, quando era ancora il principale dirigente della seconda internazionale, che è il libro, diciamo, Le teorie sul plus valore, che fu Engels a definire il quarto libro del Capitale. Quindi era un'orchestra, come dicevo, non si può parlare di secondo violino, era troppo modesto Engels a dire che lui era stato solo il secondo violino. E' una storia incredibile quella di Marx e Engels per molti versi. Kauski si proponeva di scrivere una biografia di Marx ed Engels, che purtroppo non ebbe tempo di scrivere perché fu ammazzato da un sicario stalinista nel 1940 in Messico, e voleva intitolarla la storia di una grande amicizia o qualcosa del genere. Effettivamente è una cosa che non appare nella storia, credo, dell'umanità, come collaborazione intellettuale fra due cervelli di prima grandezza, evidentemente fra due geni, che hanno lavorato insieme per un lunghissimo periodo. Loro si conoscono nel 1842, erano ancora giovanissimi, Marx nasce nel 18, Engels due anni dopo, nel 20. Al primo incontro non si piacciono molto, diciamo. Hanno un secondo incontro a Parigi nel 1844. Nell'estate del 1844 si incontrano a Parigi e da lì inizia questa straordinaria avventura intellettuale, questa collaborazione che durerà quasi 40 anni, fino appunto all'83, quando muore Marx. E abbiamo una testimonianza di questa collaborazione fra loro, in quel carteggio bellissimo, un'altra lettura che suggerisco ai compagni. Trotsky diceva che era una delle cose che più lo aveva avvicinato al Marxismo, era stata la lettura di questo carteggio fra i due. In Italia, in italiano, è stato raccolto in sei volumi, ma è solo una parte, in realtà, pare che ce ne siano altre, che ancora stanno lavorando, elaborando, trovando nella cosiddetta Mega II, che è questa edizione delle opere complete di Marx. Sapete che non esiste un'edizione completa delle opere di Marx a tutt'oggi, nonostante siano morti tutte e due da più di un secolo, non esiste ancora in nessuna lingua al mondo. Si era iniziato sotto il bolshevismo in Russia, un'edizione completa, poi nella Germania dell'Est, ogni volta è stata interrotta da varie vicissitudini politiche, dallo stalinismo, poi dalla guerra, eccetera. Una seconda Mega, cioè che è la sigla, no, dell'opera è completa, è stata ripresa prima dal crollo del muro di Berlino, interrotta dal crollo dello stalinismo, ripresa successivamente, sono usciti già oggi vari volumi, ma è un'opera sterminata, perché i due scrivevano tantissimo, insomma. E il carteggio è molto interessante, Lenin aggiungeva che era molto interessante anche politicamente, lui curò personalmente in particolare un libro, una parte di questo carteggio, che è quella che si riferisce anche ad alcuni testi sulla Comune di Parigi e alcuni testi degli anni 70, diciamo, cioè dopo la Comune di Parigi. Insomma, vi dicevo, inizia questa collaborazione incredibile. Purtroppo il carteggio si interrompe a un certo punto, cioè nel 1870, il carteggio fra loro due. Perché si interrompe? Perché il carteggio era motivato dal fatto che Engels lavorava a Manchester, nell'azienda di famiglia, come dicevo, fu dirigente di questa azienda, grazie ai soldi che guadagnava lì, insomma, mantenne una buona parte della prima internazionale, del movimento rivoluzionario internazionale. Nel 70 finalmente si può liberare di questo lavoro, che non sopportava in nessun modo e che faceva solo per questo motivo, diciamo, per ricavare dei soldi, non tanto per sé, insomma, perché anche lui non è che abbia fatto una gran vita, ma per il partito. E va finalmente a stabilirsi a Londra, dove Marx già si era stabilito da tempo, e trova una casa a circa un quarto d'ora dalla casa di Marx, e quindi iniziano a vedersi tutti i giorni. Questo, da una parte, per noi è uno svantaggio, perché il carteggio si interrompe nel 1870, il carteggio fra i due, ma inizia una collaborazione ancora più feconda. Si vedevano tutti i giorni nello studio di Marx, come raccontano le figlie di Marx, che furono tra l'altro militanti e dirigenti del movimento comunista internazionale, avevano l'abitudine o di uscire insieme a passeggio nel pomeriggio e discutere dei testi che l'uno e l'altro stavano scrivendo, oppure lavoravano nello studio di Marx e dice, mi pare una delle figlie o dei generi, che si era creato quasi un solco sul tappeto di questo studio, perché uno passeggiava da una parte, l'altro dall'altro lato del tappeto, e intanto si scambiavano idee, commenti sui testi che stavano scrivendo, sulle polemiche politiche che stavano facendo, sugli atti politici, perché furono in primo luogo, come vedremo, due grandi dirigenti del movimento operaio, non solo due filosofi o due economisti, come in genere ci vengono ricordati. Oltre a tutto questo, che già sarebbe sufficiente, per dire come Engels non fu solo il secondo violino, dopo la morte di Marx, Engels, oltre a dedicarsi alla pubblicazione del secondo e terzo libro del Capitale, che gli assorbirono una quantità di energie notevolissime, pubblicò delle importantissime prefazioni alla gran parte dei testi che avevano scritto insieme, o che aveva scritto il solo Marx, eccetera, e fu lui a scoprire, nello studio di Marx, fra le carte di Marx, quel testo fondamentale, che sono le tesi su Feuerbach, che sono due paginette che Marx scrive nel 1845, quando stavano insieme lavorando all'ideologia tedesca, a un testo del 1946, che in realtà però rimarrà inedito, verrà pubblicato soltanto nel Novecento dai bolshevichi, da Riasanov, che era il direttore dell'istituto Marx Engels, istituto voluto dai bolshevichi, da Lenin in particolare, che pubblicherà molti degli inediti di Marx, voi sapete che molti dei testi importanti che noi oggi leggiamo di Marx sono stati pubblicati nel Novecento, l'ideologia tedesca, i cosiddetti manoscritti economico-filosofici del 44, che pure hanno portato grande sconcerto nel movimento marxista e comunista, perché sembravano, c'è stato un grande dibattito, sembravano secondo alcuni riportare indietro Marx, alle sue giovanili posizioni idealistiche, alla questione dell'alienazione, eccetera, però adesso non voglio su questo aprire, magari nel dibattito possiamo entrare meglio. Quindi scopre queste tesi su Feuerbach, queste due paginette che sono fondamentali, su cui sono stati scritti alcune decine o centinaia di libri, credo, per cercare di interpretarli, eccetera, che in realtà non sono un po' è un testo così difficile, anche se Marx lo scrisse per se stesso, quindi non era pensato per la pubblicazione, in cui già c'è tutta la concezione materialistica della storia, nella sua profonda, nella sua profonda e impronta dialettica, che nulla ha a che fare con quella schematizzazione volgare che fu fatta successivamente dalla seconda internazionale, dallo starinismo, da Buccarin, prima ancora dello starinismo, con quel manualetto che scrisse nel 21-22, sulla concezione materialistica della storia, che era ridotta in realtà a una schematizzazione, riprendendo alcune frasi di Marx e di Engels, estrapolandole dal loro contesto, a partire da quella famosa introduzione, prefazione del 1859 alla critica dell'economia politica, che spesso viene citata per ridurre la concezione materialistica della storia a una banalità, cioè a quello che Marx chiamava nelle tesi su Feuerbach il vecchio materialismo. L'idea, importante si intende, che le idee, per dirla con un altro filosofo marxista, la viola, non cadono dal cielo, e cioè per riprendere dei concetti fondamentali del materialismo, che però non sono invenzione di Marx. Marx apportò molto di nuovo in realtà al materialismo, coniugò il vecchio, quello che lui chiamava il vecchio materialismo, con la concezione profondamente dialettica, hegeliana, diciamo, del movimento della storia. Oltre ad aver fatto tutto questo, Engels ha scritto anche una serie di libri suoi che rimangono fondamentali nella storia del movimento operaio. L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, che pubblica nel 1884, è un testo tuttora fondamentale. Se uno vuol capire qualcosa del perché lo Stato, la famiglia e appunto la proprietà privata sono cose che non sono nate, diciamo, istituti che non sono nate, lupati storicamente, in un certo momento, in una determinata forma, e che hanno contribuito a fare della società terribile, schifosa, di merda, direbbe Marx, che usava spesso questa espressione, possiamo permetterci forse anche noi, di usare la stasera in cui viviamo. Cioè il capitalismo, beh, Engels lo studia, lo analizza molto bene tutto questo. Oltre ad aver fatto questo, questo genio assoluto, diciamo, della storia del movimento operaio che parlava dodici lingue, si dice che abbia, lui stesso dice che avrebbe imparato il russo soltanto per leggere l'onieghi di Pushkin per darvi l'idea, insomma, e l'ho imparato in due mesi, una cosa del genere. Ogni tanto scrive una lettera a Marx per dirgli ho iniziato lo studio del, che so, io serbo croato e entro un paio di settimane dovrei venirne a capo, eccetera, dodici lingue. Parlava in modo fluente, scriveva, studiava di fisica, biologia, geologia, agronomia, matematica, sia lui che Marx si dedicavano a questi insieme di cose non per perdere del tempo, diciamo, pervezza intellettuale, ma perché posero una parte di questi studi a fondamento dei testi che scrissero, in particolare del capitale. Engels era un autodidatta, interruppe lo studio prima di completare il liceo, gli studi superiori e aveva, era un grande conoscitore della letteratura mondiale. Anche qua, ripeto, se paragoniamo la profondità di studio di queste figure con i loro indegni, molti dei loro indegni eredi, vediamo insomma la differenza incredibile. Viene un po' in mente quella frase che diceva ogni tanto Marx, no? Ho seminato draghi e ho raccolto pulci, guardando un po' ai suoi discepoli. E oltre a tutto questo, però, non è che fossero due topi di biblioteca, insomma, si divertivano. Engels in particolare, insomma, amava lo sport, amava andare a caccia, amava la caccia alla vulpe. Oggi sarebbe considerata una cosa poco, diciamo, rispettosa dell'animalismo e dell'ambientalismo, però, nell'Ottocento si faceva anche questo, amava il buon vino, il buon cibo, eccetera. Ci sono molti anediti, tutti divertenti, di quando scrive in una lettera, Perché, come erano regolarmente seguiti dalla polizia, spiati dalla polizia, Engels in una lettera dice, ma ci sono qua fuori, insomma, due questurini, diremmo noi oggi, che stanno lì appostati da parecchie ore, fa molto freddo, sarei quasi tentato di invitarli ad entrare, a vedere che cosa sto facendo qua dentro, perché l'unica cosa che sto facendo è che sto aprendomi una bottiglia di chiaretto molto buona, peraltro, dice, potrei offrirne anche loro, ma li lascerò lì fuori, lì fuori al freddo. Questo era Engels, diciamo, questa figura straordinaria. Nel 1878 scrive un altro libro fondamentale che è l'Anti-During, che si chiama così perché era contro questo signor During di cui tutti hanno perso memoria e che è passato la storia solo perché Engels gli ha dedicato un libro che tuttavia all'epoca aveva una qualche importanza, era un professore universitario che, di impronta positivista, che influenzava molto la socialdemocrazia tedesca, no? i dirigenti tedeschi leggevano i libri di questo During e dicevano sono importanti quasi quanto le opere di Marx. Engels, che viceversa riteneva che questo tizio scrivesse delle sciocchezze colossali, decide di scrivere un libro per smontare le teorie di During e su questo libro, in realtà, che è alla fine poi un condensato del marxismo, delle questioni principali dell'economia, della filosofia marxista, si sono formate intere generazioni di rivoluzionari e in particolare su una sua versione ridotta che riprende alcune parti che è conosciuta come il socialismo dall'utopia alla scienza. Migliaia, milioni probabilmente di persone, di comunisti, si sono formati sul marxismo leggendo questo testo. E dopo la morte di Marx, come se ancora tutto questo non fosse sufficiente, Engels è stato anche il principale dirigente della seconda internazionale. Voi sapete che la prima nasce nel 64 e viene uccisa diciamo con eutanasia da Engels stesso in accordo con Marx nel 1872 e nell'89 per i cento anni della grande rivoluzione francese viene fondata la seconda internazionale. Marx era già morto e Engels diventa i principali dirigenti. E qua abbiamo un'altra miniera di incredibile importanza che troviamo nelle sue lettere perché iniziano a scrivere di lettere i partiti socialdemocratici si diceva allora oggi diremmo comunisti da tutte le parti del mondo per chiedere suggerimenti di tattica di strategia e lui risponde a tutti risponde a tutti e il suo carteggio è di estremo questo carteggio è di estremo interesse ancora oggi dal punto di vista politico detto questo in estrema sintesi abbiamo detto un po' chi era insomma questo Engels cosa ci lascia oggi e perché è particolarmente importante ricordarlo ci lascia insieme a Marx il marxismo che ha preso il nome del suo compagno che sarebbe più appropriato chiamare Marx Engelsismo se la parola non fosse impronunciabile ci lascia il marxismo che non è solo una teoria utile importante fondamentale l'unica di cui disponiamo per interpretare il mondo ma che è anche e soprattutto un programma per cambiare il mondo come diceva appunto quella famosissima ultracitata e spesso equivocata undicesima tesi su Feuerbach no? quell'undicesima tesi che Marx scrisse per se stesso nel 45 di cui vi parlavo prima che dice più o meno i filosofi hanno finora interpretato in forma diversa il mondo si tratta ora di cambiarlo penso è stata interpretata come una specie di teoria antiteorica antifilosofica di Marx cioè come se Marx avesse detto finora abbiamo fatto tanta teoria adesso passiamo alla pratica qualcuno l'ha interpretata così ovviamente non è questo il senso della frase la frase intende dire il concetto che Marx esprime è è necessario cambiare il mondo e per cambiarlo bisogna studiarlo bisogna fare entrambe le cose perché non c'è possibilità di cambiare il mondo di fare una rivoluzione se non capiamo bene cos'è questo mondo diciamo in cui viviamo il mondo capitalistico per questo Marx ha dedicato una parte importante della sua vita a studiare il sistema capitalistico e il frutto più importante è evidentemente il suo libro Il Capitale ma non ha fatto solo quello in genere nelle accademie nei libri di storia si ricorda solo questa parte di Marx ma Marx ha fatto molto altro è stato in primo luogo e soprattutto un dirigente politico è quello che dice Engels al suo funerale dove partecipano una dozzina di persone al funerale di Marx nel 1983 Engels tiene il discorso funebre e dice più o meno adesso vado a memoria il filosofo il teorico fu in Marx meno dalla metà del rivoluzionario cioè a dire che la cosa più importante che fece Marx fu quella di dirigere di costruire dei partiti rivoluzionari un'internazionale rivoluzionaria ovviamente una cosa alimentava l'altra cioè la teoria alimentava la pratica politica e la pratica politica a sua volta diciamo contribuiva a fare delle teorie di Marx non delle astrazioni come i filosofi che l'hanno preceduto e a cui si dedica gran parte degli studi nelle scuole e nei licei si dedicano pagine pagine libri interi ore a studiare nel dettaglio per carità non che non sia interessante anche Marx l'ha fatto tutto quello che hanno scritto i filosofi più disparati che tuttavia al mondo non hanno lasciato altro che qualche libro mentre di Marx e Engels che hanno cambiato la storia dell'umanità perché non ci sarebbe stato il comunismo e la rivoluzione d'ottobre segnalo di passata se non ci fossero stati e diciamo non ci fosse stato il marxismo a loro viene dedicato due o tre paginette di sciocchezze in genere dove si scrivono in genere delle grame bagiannate però cosa hanno fatto di nuovo questi due questi due uomini eccezionali hanno detto che il mondo è diviso in classi però questa diceva Marx precisava Marx non è una grande novità e non è stata un'invenzione né una scoperta loro lo diceva in realtà già molti storici francesi ad esempio parlavano della divisione in classi e della società prima di loro ben prima anche che loro nascessero loro hanno detto qualcosa in più hanno detto in primo luogo e hanno dimostrato che il mondo la società non è sempre stata divisa in classi questa è una prima cosa importante una seconda che il sistema capitalistico è nato ad un certo punto ed è stato l'erede delle forme di divisione in classi della società precedenti e ha innovato per così dire ha reso più sottile più raffinato lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo che già esisteva nelle tipologie di società precedenti ha inventato quello schiavo moderno come lo chiamava Marx che non ha catene che è il proletario che ha il possesso del proprio corpo a differenza dello schiavo della società schiavistica ha il possesso del proprio corpo può decidere liberamente apparentemente se vendere il proprio corpo la propria forza lavoro come la chiamava Marx al suo padrone in cambio di un salario ovviamente una libertà molto relativa perché se il proletario che solo di quello dispone cioè solo della sua forza lavoro non vende la sua forza lavoro al padrone muore di fame come no e quindi in realtà non ci sono catene visibili ma ci sono tante come sappiamo bene catene invisibili che legano il proletario alla macchina alla fabbrica e poi hanno detto anche alcune altre cose importanti hanno detto che la società capitalistica è divisa in due grandi classi quella dei borghesi che detengono il controllo dei mezzi di produzione di scambio e quella appunto dei proletari che l'unica cosa che possiedono è appunto la propria forza lavoro questa merce particolare che vendono al padrone e che tuttavia non consiste in uno scambio tra equivalenti spiega bene Marx nel senso che la borghesia non paga al lavoratore la merce che produce ma paga la sua forza lavoro e durante la giornata lavorativa il lavoratore produce diciamo delle merci che hanno un valore che cede quello del salario è il famoso plus valore su cui si basano i profitti dei padroni insomma le grandi ricchezze delle famiglie che detengono il controllo della ricchezza anche nel nostro paese quelle famose 20, 30, 40 famiglie nel mondo che detengono la stragrande maggioranza della ricchezza in questo mondo mentre una parte dell'umanità vive come è noto con un dollaro al giorno priva di energia di corrente elettrica di acqua potabile di cibo e così via e non si limitano però Marx e Engels ad analizzare tutto questo ma formulano un programma questa è la differenza per questo non erano dei filosofi e Marx non era un economista era in primo luogo un rivoluzionario analizzano per formulare un programma e cosa dicono che l'unico modo che ha l'umanità per superare questa mostruosità in cui si è trasformato il sistema capitalistico che certo è stato relativamente progressivo rispetto a sistemi che l'hanno preceduto ma è stato un progresso molto relativo beh l'unico modo che ha l'umanità per liberarsi di questo è superare la divisione in classi della società e quindi espropriare dice Marx gli espropriatori cioè espropriare il grande capitale fare in modo che quelle 20-30 famiglie non detengano il controllo della ricchezza del pianeta delle sorti del pianeta delle sorti di oggi diremmo 7 miliardi di persone al mondo questo programma che dovrebbe apparire assolutamente razionale ma che grazie all'ideologia dominante pagata da chi dettiene da quelle 30 famiglie appare una cosa incredibile appare come un'utopia perché dovremmo pensare una cosa del genere ci fanno ci insegnano fin dalle scuole fin da piccoli che la norma è questa qua che 30 famiglie 40 famiglie nel mondo detengono la stragrande ricchezza che gli altri muoiono di fame miliardi di persone muoiono di fame questa è la norma è la cosa normale se qualcuno dice questa cosa è del tutto irrazionale come Marx fa come Marx dice come Engels dice beh quello è un utopista perché il mondo è sempre andato così eccetera eccetera no Marx ha spiegato nel capitale che non è sempre andato così che la società non è sempre stata divisa in classe c'è stata una società primitiva lo spiega Engels anche in quel libro l'origine della famiglia proprietà privata dallo Stato non è sempre stata divisa in classe e non necessariamente lo sarà per sempre alcuni hanno interpretato questa cosa equivocando evidentemente dicendo che quindi Marx profetizzava si faceva profeta di un inevitabile socialismo ma Marx non ha mai teorizzato una cosa del genere la concezione materialistica della storia è quanto di più lontano ci sia dall'idea borghese del progresso inevitabile della storia Marx purtroppo già da 48 insieme a Engels quando scrive il manifesto dice che il comunismo è una delle possibilità che l'umanità ha di fronte ma già nel 1848 dice c'è una seconda possibilità purtroppo e di cui oggi noi abbiamo per così dire un'immagine abbastanza nitida è quella che nel manifesto viene definita la rovina di entrambe le classi in lotta cioè la possibilità che tanto la borghesia come il proletariato se il proletariato non sarà in grado di rovesciare la borghesia periscano insieme all'umanità badate nel 1848 lo dicono e pensate come è attuale questa cosa questa profezia oggi di fronte a un mondo squassato dalle crisi dalle pandemie eccetera eccetera come è vera questa cosa qua come è vero il fatto che se il proletariato non è in grado di rovesciare questo sistema e la borghesia come è vero il fatto purtroppo che non c'è nessun socialismo inevitabile il socialismo non è inevitabile è una delle possibilità che l'umanità ha di fronte l'altra è la barbaria e allora cosa dicono loro in questo programma è necessario espropriare gli espropriatori è necessaria una rivoluzione per fare questo parola scandalosa per quanto oggi venga usata nella forma più larga per cose che di rivoluzionario non hanno assolutamente nulla dalla pubblicità a qualsiasi cosa ormai si chiama rivoluzione beh la rivoluzione di cui parlano loro è quella rivoluzione fatta dal proletariato che rovescia rompe le istituzioni dello Stato borghese perché lo Stato è borghese non è un'entità neutra al di sopra delle classi e tutti di noi ne abbiamo una qualche diciamo consapevolezza se vediamo che cosa fa ad esempio lo Stato italiano la Repubblica in cui abbiamo il piacere di vivere cosiddetta fondata sul lavoro eccetera eccetera cosa fa il governo Conte e così via beh vediamo che non sono una cosa neutra sono al servizio di quelle famose 10-20 famiglie che governano che detengono i mezzi di produzione di scambio cioè la ricchezza beh loro dicono ma se anche bisogna rompere lo Stato con una rivoluzione e prendo un esempio non è una cosa che si inventano loro dicono come può essere fatta questa cosa nel 1871 c'era la Comune di Parigi e loro dicono beh vedete come hanno fatto gli operai parigini che nulla sapevano di marxismo gran parte di loro nemmeno aveva letto il manifesto che fu tradotto in Francia soltanto l'anno dopo non conoscevano una gran parte delle opere di Marx e fecero una rivoluzione infatti Marx disse perché è importante quell'esperienza perché ha dimostrato in termini pratici i lavoratori come si può rovesciare questo sistema e il fatto che in realtà l'unica cosa che non è necessaria all'umanità sono i padroni perché la produzione può continuare perché quelli che producono ogni ricchezza ogni merce ogni cosa sono i lavoratori non sono i padroni i padroni sono solo dei parassiti e i comunali parigini nel 71 gli operai parigini fecero esattamente questo quindi il marxismo come filosofia come analisi del mondo ma soprattutto come programma e non c'è nessuna inevitabilità in tutto questo una delle tante falsificazioni che è stata fatta su quello che ha scritto fatto e detto Engels è che appunto oltre a essere passato la storia semplicemente come quello che aveva dato un po' di contributo finanziario Marx e la sua famiglia per mantenersi l'altra cosa è che è morto a Engels morto Marx e morto anche Engels è iniziata tutta una diatriba per cui si è detto che insomma Engels era e si legge ancora in molti libri l'inventore del marxismo cioè in realtà molti dicono il marxismo non è mai esistito Marx è ridotto al filosofo e all'economista certo interessante ma insomma spurgato per così dire dalla sua teoria politica e dall'essere un rivoluzionario ed è Engels che ha costruito il marxismo i partiti la seconda internazionale eccetera e in realtà insomma è una delle tante falsificazioni Engels non ha ha aggiunto alcune cose importanti all'elaborazione di Marx ma non l'ha per nulla travisata come sa chi si prende la briga insomma di leggere i suoi testi i testi che ha scritto negli ultimi anni a partire dall'incriminato anti-During che peraltro Engels scrive quando Marx era ancora vivo in collaborazione con Marx nel senso che Marx come si è scoperto in seguito ha scritto direttamente una parte dell'anti-During che per molti anni era stato indicato come la prova approvata che insomma Marx non era d'accordo quando Engels scrive questo libro e che è Engels l'inventore del marxismo eccetera eccetera per farla breve una delle altre cose che vengono adebitate a Engels in particolare e all'ultimo Marx o una parte di Marx o persino al primo Marx è che sarebbero stati appunto i teorici in qualche modo di una inevitabilità del socialismo e quindi di una passività di un'idea che la storia e il progresso vanno avanti per fatti loro ma insomma tutto il marxismo in realtà è esattamente l'opposto di questa teoria qua quello che loro hanno detto ma fin dalla ideologia tedesca questo testo che vi citavo prima che è stato pubblicato solo nel novecento e che loro scrivono nel 45 e 46 beh loro lì l'idea già dall'ideologia tedesca poi nei testi che Marx scrive nel 18 Brumaio che scrive pochi anni dopo loro che cosa dicono a varie riprese dicono la storia non fa nulla non esiste non esiste un'entità storia con la S maiuscola sono gli uomini che fanno la storia ovviamente poi aggiungevano in quanto materialisti e non idealisti e non soggettivisti estremi dicevano ovviamente gli uomini fanno la storia come? attraverso la lotta di classe quindi non la fanno individualmente ma come classi e la fanno in condizioni che non si sono scelti loro questo è il materialismo la concezione materialistica della storia niente di più niente di meno di questo non c'è nessuna idea dell'inevitabile passaggio da una società all'altra e così via la prova provata che questa è la teoria di Marx e di Engels sta nel fatto che ad esempio come è stato ricordato negli ultimi anni da alcuni studiosi seri molto pochi ma ce ne sono ad esempio cito sempre Marcello Musto il suo ultimo Marx è un libro di cui raccomando la lettura ai compagni in cui parla degli scritti degli ultimi anni di Marx e poi di Engels sul cosiddetto dibattito russo in cui loro diciamo confrontandosi coi rivoluzionari russi dimostrano e spiegano per primi che non era inevitabile che la Russia passasse attraverso tutti gli stadi e gironi infernali del capitalismo sono i primi a pensarlo pensate 40 anni prima della rivoluzione d'ottobre sono loro a dire che era possibile che la rivoluzione socialista iniziasse in Russia e non nella sviluppata Europa e lo scrivono ad esempio nella prefazione dell'82 al manifesto la prefazione russa all'edizione russa del manifesto in cui dicono è possibile che la rivoluzione inizi in Russia ovviamente potrà poi svilupparsi solo su scala internazionale in qualche modo anticipando la teoria della rivoluzione permanente di Trotsky però qui arriviamo a un altro punto importante che cosa dicono Marx e Engels che per fare tutto questo è necessario appunto costruire un partito un partito internazionale ed è per questo che in tutta la loro vita non si sono limitati a scrivere una gran quantità obiettivamente di libri ma hanno anche costruito parecchi partiti diciamo a partire dal comitato di corrispondenza di Bruxelles passando per la Lega dei Comunisti passando poi per varie altre organizzazioni contribuendo alla costruzione della prima internazionale nel 64 Engels alla seconda nell'89 Marx come vi dicevo era già morto questo hanno fatto nella loro vita cioè erano appunto dei rivoluzionari e non hanno mai altra falsificazione che spesso viene attribuita al marxismo a partire da una lettura falsa della prima internazionale non hanno mai teorizzato di Marx di Engels la possibilità o la necessità di unire la sinistra questa grande frase che ci viene riproposta da decenni tra l'altro da quelli che la sinistra l'hanno divisa nel senso che hanno diviso il movimento operaio per accodarlo al carro della borghesia hanno spaccato la sinistra beh ci dicono che insomma il concetto centrale è questo qua come si fa a risolvere i problemi dell'umanità dobbiamo superare questo frazionamento della sinistra era esattamente la concezione opposta di Marx e di Engels Marx e Engels hanno lavorato tutta la vita per dividere la sinistra ovviamente per dividere come la sinistra per dividere il movimento proletario i lavoratori proletari dai falsi dirigenti della sinistra dai riformisti loro hanno teorizzato per tutta la vita la necessità di costruire un partito delimitato organizzativamente e programmaticamente la prima internazionale è questa storia qua si fonda su un programma che scrive Marx tuttavia il programma non è compreso non è razionalizzato dalla gran parte di quelli che vi partecipano perché vi partecipano le più disparate correnti e loro di congresso in congresso organizzano non l'unità con queste correnti ma organizzano sulla base di una battaglia politica di egemonia sugli altri una scissione da queste correnti e quindi ogni congresso della prima internazionale c'è una scissione pensate come erano antiunitari Marx e Engels a ogni congresso una scissione per arrivare finalmente nel 1872 quando Engels si alza a questo congresso che si tiene all'aia si alza e dice spostiamo l'internazionale negli Stati Uniti perché? perché puntavano a scioglierla perché puntavano a scioglierla si scioglierà poi nel 1876 perché dicevano la comune del 1871 ci ha indicato la via e cioè la necessità per vincere e per evitare come invece fu con la comune una disfatta che bisogna costruire un partito rivoluzionario quel partito che mancava alla comune un partito rivoluzionario che finalmente oggi grazie anche agli insegnamenti a positivo e negativo della comune possiamo costruire e quindi dice Engels bisogna arrivare allo scioglimento dell'internazionale per costruirne una e per costruire partiti marxisti e rivoluzionari in tutto il mondo che è quello che cercarono di fare con l'alterne fortuna evidentemente che poi la seconda internazionale a sua volta non è andata molto bene come sappiamo perché nel 1914 sostiene i governi imperialisti in guerra e quindi sarà necessario costruire una terza anche la terza non è come sapete andata molto bene perché c'è stato poi il processo di degenerazione starinista tanto che noi siamo qua a costruire la quarta internazionale però questo che ha fatto Massi e Engels costruire un partito rivoluzionario internazionale e la divisione la battaglia a morte contro il riformismo è stato quello che ha caratterizzato tutta la vita di Mars e di Engels perché loro dicevano il riformismo essenzialmente non è una diversa concezione un diverso modo una via diversa per arrivare al socialismo no è la via che porta in senso opposto è la via che lega al carro della borghesia il proletariato e per questo bisogna distruggere le organizzazioni riformiste bisogna combattere contro il riformismo perché il male è maggiore diciamo nel movimento operario è il riformismo e pensate com'è vera questa grande lezione senza il riformismo il capitalismo non starebbe in piedi non starebbe in piedi non ha la forza per rimanere in piedi quelle 30 famiglie 40, 50 quante ne sono su 7 miliardi di persone non hanno la forza nemmeno con i loro stati per mantenersi in piedi se ce l'hanno se ce la fanno da tanto tempo da quasi due secoli ormai perché riescono sono riusciti a vincere contro tante rivoluzioni che ci sono state nella storia è perché hanno all'interno del campo nemico cioè del campo proletario degli agenti loro come li chiamava Lenin che sono i riformisti le organizzazioni riformiste che portano nel movimento operaio quella peste bubonica molto peggio del coronavirus per certi versi perché ha prodotto più morti nella storia del novecento di quanti purtroppo ne produrrà anche se sono molti il coronavirus anche questo grazie al capitalismo e ai riformisti chiusa parentesi beh quello che ha fatto che hanno fatto loro è stato garantire ai riformisti che il sistema capitalistico continuasse a esistere e continuano a farlo anche oggi fanno in modo che ogni lotto ogni rivolto ogni rivoluzione che continuamente si riproducono ogni latitudine del mondo vada verso la sconfitta e pensate come sono attuali i concetti di Marx e Engels non stiamo parlando di cose del passato come a volte ci viene detto le rivoluzioni sì sono cose del passato e tu gli indichi quello che succede nel Medio Oriente e ti dicono sì ma il Medio Oriente e gli dici sì ma guardate l'America Latina il Cile la Colombia e ti dicono sì ma l'America Latina sono i paesi dipendenti e allora adesso gli dice ma guardate dall'altra parte delle Alpi che cosa hanno fatto dieci giorni fa i francesi insomma che non sembrava una cosa esattamente per un tentativo di riforma del Parlamento ha dato fuoco insomma a alcuni palazzi beh e allora lì effettivamente diventa più difficile dire che la rivoluzione è una cosa del passato una cosa che è confinata ad altre latitudini la rivoluzione le lotte di classe si riproducono continuamente ma qui e qui sta il grande insegnamento di Marx e Engels non possono arrivare a vittoria se non si costruisce al loro interno all'interno delle lotte che continuamente si riproducono un partito internazionale un partito rivoluzionario questa se uno dovesse dire che cosa hanno detto Marx e Engels hanno detto questo non solo l'hanno detto l'hanno fatto l'hanno praticato hanno cercato di costruirlo questo è il grande insegnamento che ci lasciano Marx e Engels e che quelli che anche oggi celebrano Engels i 200 anni ho visto delle cose indegne su cui caliamo un pietoso velo organizzazioni riformiste che hanno come unico obiettivo quello di tornare dopo esserci già stati tragicamente ai governi con i borghesi per sostenere le politiche borghesi celebrano anche loro come noi i 200 anni di Engels ma con che diritto verrebbe da dire celebrate un rivoluzionario voi che indicate esattamente la strada opposta a quella che Engels ha indicato diciamo con tutta la la sua vita e quindi su questo perché vedo che il mio tempo non nel senso vitale ma diciamo nel senso della serata si sta esaurendo sono andato poi probabilmente un po' fuori strada rispetto alle cose che volevo dire per concludere su 3-4 cose come vi dicevo è stato molto falsificato Engels in particolare gli hanno fatto uno scherzo tragico poco prima che morisse lui muore nel 1895 per un tumore all'esofago e poco prima insomma la direzione del partito gli aveva chiesto di scrivere una prefazione questo libro di Mas che in realtà è una raccolta di articoli di Mas su 48 cingule lotte di classe in Francia 48-50 Engels raccoglie questo insieme di articoli e scrive una prefazione per questo libro tuttavia non ho qui tempo per raccontare tutta la vicenda chi fosse interessato può leggere un articolo che abbiamo pubblicato su non mi ricordo quale numero della nostra rivista Troschismo oggi ma se li comprate tutti tutti quelli che non avete non fate una brutta cosa perché sono tutti molto interessanti quindi anche se mi ricordassi il numero non ve lo direi ma effettivamente non ve lo dico perché non me lo ricordo beh in questo articolo spiega meglio la cosa però detti in estrema sintesi che cos'è che la direzione del partito social democratico cioè comunista diremmo noi oggi tedesco gli chiede di scrivere questa prefazione lui scrive un testo dirompente secondo i dirigenti i dirigenti gli dicono beh ha un po' un problema pubblicare un testo del genere siccome in quel momento c'erano delle leggi speciali e repressive in Germania lui accetta di emendare un po' il suo testo tuttavia rimane inaccettabile perché Engels era un rivoluzionario e allora glielo amputano glielo pubblicano pezzi falsificandolo eccetera cosa che abbiamo scoperto molto dopo soltanto nel novecento quando quel Riasanov quel dirigente teorico bolshevico scopre il testo originale eccetera la vicenda sarebbe più lunga qui l'ho sintetizzata perché è interessante questa cosa perché in realtà è un'altra delle grandi falsificazioni che sono state fatte di Engels cioè si è detto che prima di morire così come alcuni prima di morire si scoprono religiosi e iniziano a pregare Dio e la Madonna beh Engels invece avrebbe scoperto poco prima di morire che l'unico modo per cambiare il mondo era prendere voti in un Parlamento borghese pensate voi che questo testo quando è stato pubblicato è un testo che non parla d'altro se non delle tecniche militari con cui nella situazione dell'epoca cioè gli anni 90 dell'ottocento bisognava affrontare le barricate in base ai nuovi tipi di fucili che avevano le forze repressive e così via e non a caso Engels che era uno specialista di cose militari era chiamato affettuosamente da Mas e dai suoi amici il generale perché era un appassionato di questioni militari non in astratto perché pensava che le rivoluzioni ma è stato così anche per quelle borghesi anche se la borghesia oggi punta a dimenticarsene non sono in genere delle cose molto tranquille perché puntano a rovesciare un regime un sistema e in genere chi viene rovesciato non lo lascia fare in forma indolore non partecipa dicendo va bene è successo così nella rivoluzione francese per cui hanno dovuto tagliare un certo numero di test ma è successo così in tutte le rivoluzioni in genere così funzionano le rivoluzioni e Mas e Engels studiava questi aspetti qua e pensate che i suoi testi militari sui suoi testi di analisi dottrina militare non solo si è formato Trotsky che nulla sapeva delle questioni militari e poi ha fondato l'armata rossa con 5 milioni di militari che ha difeso la rivoluzione bolshevica ma ancora oggi cosa divertente i suoi testi i testi di Engels vengono studiati a quanto pare nelle accademie militari dei paesi imperialisti a West Point studiano i testi di Engels che sono di estremo interesse ovviamente loro li studiano dal punto di vista opposto a come li studiamo noi per vedere come rispondere alle future rivoluzioni eccetera però tanto per dire e a questa figura che era chiamato il generale per questo motivo lui dice in una lettera che scrive a Kauski e dice mi è stato fatto un brutto scherzo perché vedo pubblicato il mio testo stravolto e io sono trasformato in una specie di sostenitore del pacifismo della via parlamentare al socialismo eccetera che è l'opposto di quello che lui aveva fatto per tutta e che lui e Mass hanno fatto per tutta la sua vita che è l'essenza del marxismo e che non è possibile modificare questo sistema utilizzando i suoi strumenti gli strumenti del sistema la via parlamentare il socialismo sono fandonie sono le tante fandonie che il riformismo insieme allo stalinismo nella sua visione anche stalinista hanno contribuito a diffondere per tanti anni eccetera eccetera e quindi lui dice ma com'è che mi è stata fatto questo scherzo e questo è l'ultimo scherzo che gli tirano poco prima poco prima di morire a lui che era stato avversario indomito di queste teorie riformiste eccetera e purtroppo la sua figura è stata in gran parte cancellata dimenticata falsificata non solo dal riformismo anche dallo stalinismo e vorrei concludere diciamo con un piccolo aneddoto che ho sempre trovato al contempo divertente e anche tragico diciamo vi parlavo vi ho parlato varie volte vi ho citato varie volte stasera questo Riasano che era un dirigente bolshevico grande esperto di Mars e di Engels è lui che ha pubblicato vi dicevo molti dagli inediti di Mars nel novecento Lenin aveva chiesto a lui di occuparsi delle carte di Mars e Engels grandissimo studioso Riasano viene messo da Lenin a presiedere l'istituto che si chiamava all'epoca Mars e Engels che in seguito purtroppo acquisirà il nome dopo la morte di Lenin di Lenin e poi anche quello di Stalin diciamo e mettendo insieme come dire il diavolo e l'acqua santa no? Mars e Engels e quell'ignorante brutale che era Stalin che evidentemente nulla che aveva a che fare con Mars Sismo oltre a essere ignorante e beh Riasano a un certo punto siccome simpatizzava per l'opposizione aveva posizioni inconciliabili con lo stalinismo con l'opposizione di sinistra ovviamente l'opposizione bolshevica rivoluzionaria dello stalinismo cade in disgrazia viene sostituito alla direzione dell'istituto da persona più docile e mansueta e infine viene arrestato imprigionato e morirà diciamo in uno dei gula che è stalinisti per non essersi piegato allo stalinismo e Stalin manda a casa di Riasanov i suoi agenti la polizia la GPU si chiamava all'epoca quella poi diventata KGB eccetera per vedere che cosa c'è che carte pericolose ci sono nello studio di Riasanov questo studioso di Mars e Engels e bruciano purtroppo una gran parte dei suoi appunti cose preziose che oggi sarebbero preziosissime nello studio di Mars e Engels insomma uno di questi agenti questi poliziotti a un certo punto si trova di fronte a un ritratto di Engels e in questo ritratto c'era in fondo una dedica a Riasanov fatta da Laura Lafarge Laura Lafarge era una delle figlie di Marx che appunto che appunto aveva mandato a Riasanov un ritratto di Engels con una dedica e il poliziotto chiede alla nipote di Riasanov che gli aveva aperto la porta di casa gli chiede ma chi è il poliziotto stalinista gli chiede ma chi è questo qua pensate stiamo parlando del metà degli anni 30 nella Russia cosiddetta socialista di Stalin e la nipote di Riasanov risponde beh è Engels sembrava strano che non lo conoscesse perché ripeto stiamo parlando non di un poliziotto della polizia italiana un carabiniere italiano che si suppone non riconoscerebbe né Engels né Mastri nemmeno se ci fosse scritto sotto il nome perché non saprebbe leggere no stiamo parlando di un agente della GPU stalinista e quindi nella cosiddetta Russia socialista gli dice è Engels il poliziotto si rivolge alla ragazza e gli chiede ma chi era Engels tanto per darvi l'idea questo no questo aneddoto tragico di che fine ha fatto sotto lo stalinismo la figura straordinaria di Engels che noi invece dobbiamo recuperare insieme a quella di Marx nella loro reale eredità non nelle falsificazioni tante che sono state fatte perché costituiscono un patrimonio inestimabile per i lavoratori giovani che vogliono opporsi a questo sistema perché senza quella teoria lì non è possibile nessun movimento rivoluzionario ci saranno ci possono essere ci sono varie latitudini del mondo tante lotte tante rivolte tante rivoluzioni sono tutte tragicamente destinate alla sconfitta se a meno che non si riesca a costruire all'interno di quelle lotte e anche noi diciamo dobbiamo lavorare cerchiamo di lavorare in questo senso un partito internazionale rivoluzionario basato sulla straordinario patrimonio teorico di Marx e di Engels grazie a tutti grazie a tutti